Il tuo canto libera torna a Napoli. Iniziamo con il cerchio per la conoscenza reciproca e la personalizzazione. Passiamo poi agli esercizi per il ritmo giocando. Cannucce per lavorare sul fiato, ma non solo. Questa volta introduciamo un nuovo esercizio con una strisciolina di carta. Verifichiamo se stiamo effettuando il giusto appoggio costo diaframmatico. La pancia entra in gioco non soltanto per la giusta respirazione, ma anche perché a tavola si fa la metà del lavoro. Si coede il gruppo, si crea un'intimità importante. Ciascuno dei partecipanti ha contribuito con un qualcosa da mangiare insieme. Oh papà! Viva Lucio! La condivisione delle emozioni cresce. Arriva il momento delle performance individuali. Si piange, si ride, ci si consola vicenda, vediamo foreste, vediamo massi da spostare. Arriviamo alla fine, siamo orgogliosi, fieri, siamo un gruppo forte. Perché siamo a Napoli e... Cristo canto libera!